Sono 2600, gli italiani incarcerati all'estero, anche in paesi del terzo mondo, in condizioni di certo non rispettose dei diritti umani, ben oltre le condizioni in cui è costretta Ilaria Salis. Certo, da imputati non si sta bene in nessuna parte d'Europa e del mondo, però credo che intorno alla vicenda Salis ci sia tanta ipocrisia da parte della sinistra. Se colpevole Ilaria Salis dovrà scontare la sua pena, come avviene in ogni stato di diritto, come dovrebbe avvenire in ogni paese che faccia rispettare la legge.